Nel nostro video di oggi, sveleremo l'autentica identità di Matteo, il promettente vincitore del famoso show televisivo, L'Eredità. Prima di procedere con l'approfondimento, desideriamo richiedere il vostro sostegno. Vi invitiamo a premere il pulsante di iscrizione e ad esprimere il vostro apprezzamento con un mi piace al video. Grazie Infinite. Il programma televisivo, L'Eredità, trasmesso su Rai 1 e condotto con maestria da Marco Liorni, ha catturato l'entusiasmo del pubblico italiano grazie al suo formato divertente. I concorrenti si sfidano per guadagnarsi un posto nella fase finale, la ghigliottina, dove devono indovinare una parola finale collegata ad altre, dimostrando così una solida padronanza della lingua italiana. Matteo, il nostro campione emergente, ha impressionato tutti con la sua preparazione eccezionale, superando avversari e raggiungendo la ghigliottina nell'ultima puntata. Partendo da un montepremi iniziale di 60.000 euro, ha affrontato sfide e ostacoli con determinazione. Purtroppo, nonostante la sua riflessione sulla parola finale, non è riuscito a portare a casa il premio di 20.000 euro nelle puntate finali. In modo scherzoso, Marco Liorni ha paragonato Matteo a due celebrità, Harry Potter e il pilota di Formula 1 Charles Leclerc. Questo confronto, accolto positivamente dal pubblico, ha suscitato una certa curiosità intorno a Matteo. Oltre alla somiglianza fisica, la partecipazione di Matteo a, l'eredità, e il suo confronto con personaggi noti hanno aggiunto un tocco di leggerezza al programma, alleviando la tensione legata alla possibilità di vincere una somma considerevole. E voi, cosa pensate di Matteo? Condividete le vostre opinioni lasciando un commento. Inoltre, vi ricordiamo di supportarci con un semplice click sul pulsante di iscrizione e un mi piace al video. Grazie di cuore. Grazie. Grazie.